Cari amici della Zinox F2000 Cup, benvenuti qui sul Misano World Circuit dove si è appena conclusa gara 1, decisiva naturalmente per l'assegnazione del titolo 2023 di categoria vittoria per Karim Sartori davanti a Matteo Mordino e Christian Karamush, una gara ricca di suspense e di sorprese sino all'ultimo giro. Allora andiamo a sentire dalla diretta voce dei protagonisti come è andata questa prima sfida in attesa di tornare in pista poi nel primo pomeriggio. Allora Karim Sartori, meglio di così non sarebbe potuto andare se è il nuovo leader del campionato al termine di questa gara 1, adesso la strada non dico che si faccia in discesa perché nel motorsport mai dire mai però insomma diciamo che è un risultato molto importante per te in ottica titolo. Ma è stata una gara difficilissima perché i primi tre quarti di gara ho fatto una lotta con Stefano, lui era primo e io a ogni curva diciamo lo talonavo e poi siamo arrivati ad un certo punto che ero molto vicino e lui ha fatto un errore, è uscito. E quindi ho fatto gli ultimi giri diciamo senza spingere al massimo e per ora è andata bene e vediamo gara 2 dai speriamo di ripeterci. Grazie Karim, complimenti per il tuo successo, ricordiamo Karim Sartori con questa vittoria si pone al comando della classifica vista l'uscita di scena da parte di Stefano Palomieri. Seconda posizione per Matteo Immordino, insomma Matteo per te il terzo podio consecutivo, un bel trend in questo finale di stagione per te in continua crescita. Raccontaci un po' come è andata la tua gara. Sì sicuramente è un trend positivo, non è stata anche per me una gara facile, abbiamo faticato, causa un problema alla vettura, però quello che posso dire è che complice anche la fortuna in questo caso siamo riusciti a chiudere con un ottimo posto. E adesso verificheremo i dati tra gara 1 e gara 2 e speriamo di fare ancora meglio nella gara del pomeriggio. Grazie anche a Matteo Immordino. E poi passiamo al terzo classificato quindi con il team ad Erva Corse che piazza due piloti sul podio. Cristian Karamush arrivavi da un weekend difficile al Mugello, hai ritrovato qui il podio però non sono mancate gli imprevisti in questa gara 2, e in questa gara 1 mi sembra di capire anche perché hai avuto un problema nel finale con un altro concorrente. Raccontaci un po' come è andata. La gara è iniziata molto bene, ho trovato subito un ottimo passo, sono riuscito ad attaccarmi agli altri avversari. Poi ho trovato un Formula 3 di mezzo che non riuscivo a superare, gli dava un bandiera blu eccetera. Mi si è girato davanti e sono finito in ghiaia quindi sono dovuto ripartire. Però il bilancio della gara è stato ottimo in quanto riduce dall'incidente, quindi ho ritrovato il feeling con la vettura un po' come prima. Grazie anche a Christian Karamush, allora ragazzi siamo naturalmente pronti per la gara finale di questa entusiasmante stagione, lo ricordiamo che assegnerà il titolo 2023 di categoria, dunque appuntamento ovviamente con la diretta televisiva su Sky 229 e sui nostri canali social a partire dalle ore 14.25 e vedremo chi sarà il re di questa edizione della Zinoxa F2000 Cup.